Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò ascoltare le mie canzoni preferite del momento. La prima è quella di Dommaso Paradiso Magari No. Adesso ve la faccio ascoltare. La seconda canzone è Il meglio del cinema di Fedez. Ora ve la faccio ascoltare. Ora vi faccio ascoltare, mi fa impazzire, una canzone un po' più vecchia dell'estate. Come si fa, come si fa, sul tuo rumore e giù in la stanza. Come si fa, come si fa, sulla coltà che ho te lo so per il... La prossima canzone è di Maria Madame. P.S. ho messo gli occhiali perché mi stanno bruciando gli occhi. Passiamo alla prossima canzone ora. Questa non è una canzone che l'ascolto di Ray Gwenda ma l'ascolto in auto. La prossima canzone è Joel Corey Out Out di Charlie XX. bellissima canzone una giornata scottata almeno 20 volte ultima canzone di david guetta di shoes love tonight ora la facciamo partire all i need is your love tonight ps sarà da scottarla per ore e questo video si conclude qui se volete la seconda parte delle canzoni lasciatemi almeno 50 like spero che il video vi sia piaciuto seguitemi su instagram lasciate un like e ciao ciao